Ciao a tutti e dopo aver perso le due buste, scusate, la busta di Pokémon, farò vedere, non so che cosa fare, farò vedere come funziona il 3DF. Ok. Scendiamo. E abbiamo il pelino. Allora. C'è il pelino del 3DF. Su, perché voglio lo poter vedere. Non so che farebbe il pelino. Allora, piano. Vediamo, va bene, gioco. Per fare le foto. Vabbè, ora... Si spoglia. E si può giocare con queste carte. Ecco. Puoi tirare il nil. C'è. Dali, puoi... Questa lì. Mi ha fotografia con... No, lo voglio. Mi ha fatto male. C'è un gioco. Caccia alla faccia. Con le due facce. Ok. Ok. Casa, vodella casa. Select. E start. E coperti spremiare, poi ho c'è. Abc, x, x. Poi proviamo... ... 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 provo che me la regalavano poi c'è il mio cane poi questo qua che io adoro super pokemon rumble tubidu regalata a natale ready ok 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 mario card un gioco strabiliante e super mario grosso io avrei anche ho anche wii sport resort e ho anche qui invece è un sport faccio vedere la scatola se ne trovo un po' più ecco un po' più un po' più un po' più ma un po' più Grazie. 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 Allora, il primo è Pokémon verde fuoco. E... Pensione... Forso fuoco. Allora, c'è Chadisart. Poi... Un Pokémon versione Ed The Gold. Se non ci credete che ho anche la... Aspetta, forse ho una scatola per... Non ci credo che devo fare. Non ci credo che è un Pokémon. Ah, oltre hanno spattato di rinnovare? Un'opera, due ma... Un'opera che faccio matar. Non ci credo. No. Ok, ma... l'ho trovato i due, yuki oi, come la cazzo non mi faccio il mio canto, mio dio poi ed è con lo suo silver ah si l'ho buttata da un lupo perfetto e c'è anche questo dentro e tieni tutte le due ho preso da capo anche questo qui e lo fido e lo fido e lo fido un po' più un po' più un po' più se non è abbiamo il mio ok un po' più 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 nintendo gofu panda vila passione quando vila passione che fa veramente tema un po' più una versione bianca un po' più una versione nera un po' più 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 C'è anche il mio pano, lo vengono a guardare Ecco, il mio pano si chiama Viva 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 Comunque Mh Perché diciamo che nel 3DS non è quello che l'ho vato sentire molto Mh ma vabbè Guarda cosa sto facendo Mh Bho Saluto allo mio compagno Simano, ho bevo ed a questo l'altro video Ciao a tutti